ben ritrovati dei followers della fairy family film mercoledì questa mattina è uscita la terza puntata della serie tv loki disney plus serie che se ci seguite sapete che stiamo seguendo e siamo appunto al terzo mercoledì terza settimana terzo episodio come sempre la recensione sarà divisa in due parti non spoiler e spoiler cercare di essere più breve più veloce possibile è una puntata interlocutoria in realtà è una puntata che non porta avanti più di tanto la storia che abbiamo iniziato a conoscere e ad apprezzare con i primi episodi quindi i rapporti diciamo così tra loki e la tv e il rapporto tra loki e la tv e questa variante di loki che si sta inseguendo e che abbiamo conosciuto abbiamo visto al termine del secondo episodio ma comunque un episodio molto riuscito a mio parere un episodio molto interessante molto bello ripeto la storia non prosegue più di tanto anche se qualche minimo passo lo facciamo conosciamo però molto meglio proprio questa variante di loki che non è un grosso spoiler perdonate lo impariamo essere silvi chiamarsi di silvi preferire essere chiamata silvi più che variante o loki come la chiama lui inizialmente insomma esploriamo molto il rapporto tra i due una puntata mi verrebbe da dire molto dialogata molto esplorativa una puntata che sacrifica fra virgolette gli eventi la trama per quanto diventi cose succedano appunto per esplorare per indagare per approfondire il rapporto che c'è tra i due loki tra loki e silvi le dinamiche che ci sono tra i due gli scontri che ci sono tra i due non aggiungo altro perché sennò si arriverebbe a fare spoiler ripeto una puntata che non porta avanti di tanto la trama anche se secondo me alcune delle cose che abbiamo scoperto che scopriamo nel corso della puntata saranno importanti torneranno nel corso della della stagione che poi sono altre tre puntate molto molto brevi questa stagione solo sei episodi come falcon in the wind of soldier però molto riuscita molto interessante paesergisticamente scenograficamente ne parlerò poi meglio nella parte spoilerosa vediamo cose molto interessanti e molto ben fatta godibile anche all'occhio per così dire due secondi per permettervi di andare se non volete spoiler 1 e 2 iniziamo a fare qualche spoiler ripeto una puntata di dialogo sostanzialmente parte della puntata dieci minuti un quarto d'ora buona di puntata ambientato su un treno mi ha ricordato molto snowpiercer si ritrovano loki e silvi a causa di loki come sempre su un pianeta che sta per scomparire una luna sta per impattare contro questo pianeta ammazzando tutti loki e silvi nel tentativo di scappare da i soldati della tv e si trovano catapultati in questo pianeta e anche loro quindi come tutti gli altri che sono su questo pianeta da non cercare di scappare ma ricordato snowpiercer perché l'obiettivo di dei ricchi di questo pianeta è salire su un treno che riporterà ad un'arca cioè una nave spaziale che li dovrebbe portare via li dovrebbe perché vediamo alla fine che l'arca esplode e viene colpita dai meteoriti esplode per cui tutti i ricchi che sono di dentro muoiono loki e silvi stessi hanno perso il mezzo per scappare da quel pianeta sarà interessante visto che sta letteralmente per esplodere sarà interessante capire come si salveranno come usciranno da quella situazione però la parte centrale della puntata è andata appunto su questo treno la snowpiercer che porta le persone tuoriche chi è potuto permettersi il biglietto verso l'arca e i due dialogano e due sono stati attorno a un tavolo e dialogano si si conoscono e noi conosciamo loro loki già lo conosciamo ovviamente conosciamo bene si riconosciamo meglio si perché poi è molto più riservata si è l'impressione che abbia qualche carta qualche asso nella maniera che non voglia rivelare ancora loki quindi anche gli spettatori che insomma diciamo così guardiamo attraverso gli occhi di loki ed è molto interessante molto interessante anche se non capita niente concretamente perché c'è poca azione sì c'è uno scontro con le guardie che sono sul treno quando scoprono che loro due non hanno i biglietti però è molto interessante lo stesso sono dialoghi ben scritti che ci permettono appunto di approfondire di conoscere meglio questo e questo piace sempre loki è il solito di gione che avevamo già imparato conoscere appunto nei precedenti film nel senso che è veramente sembra veramente volere il caos sembra veramente fare senza pensare alle conseguenze anche se penso che tutto rientri poi in un suo masterplan mega piano che che si svelerà poi nelle prossime puntate mega piano che però al momento noi non riusciamo a capire non riusciamo a concepire sia l'impressione che l'occhi abbia capito e noi con lui si abbia capito che forse questi time keepers questa entità divine che pare abbiano creato la linea temporale contro la linea temporale possano forse non esistere quando l'occhi scopre che la guardia che era stata rapita è in realtà una persona come tutte che viveva sulla terra e poi è stata portata in questa diciamo centrale a tva l'occhi sembra capire in questo momento che ma forse forse è tutto poco vero forse queste divinità non esistono forse c'è un disegno un altro disegno dietro insomma ci sono dei misteri che si accavallano ad altri misteri che stanno ingarbugliando la faccenda stanno incasinando un po la faccenda quantomeno chi non conosce forse i fumetti magari i fumetti la risposta c'è chi li ha letti già la sa però è tutto molto interessante lo stesso dicevo una parte non spoiler scenograficamente questo pianeta la mentis one lo chiamano abbastanza evocativo tutto violaceo con queste questo cielo punto violaceo dei meteoriti che cadono è veramente molto bello di impatto molto bello da da vedere soddisfa l'occhio sono molto curioso di vedere cosa succederà adesso nel prossimo episodio come usciranno da quel pianeta ripeto l'arca è stata distrutta loro non hanno evidentemente mezzi per per andarsene hanno visto il time pet che poteva aiutarli ad andare di lì e come 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 se ne andranno servirà una deus ex machina forse la tv e li troverà e li aiuterà fra i due e ti aiuterà nell'obiettivo di catturare ovviamente li aiuterà a andarsene lì forse si inviolò tireranno fuori un asso nella manica non lo so sono abbastanza curioso di scoprirlo ma dovrò aspettare mercoledì prossimo mettete mi piace a questo video se il video vi è piaciuto fatemi sapere nei commenti se sapete qualcosa di più qualcosa di diverso rispetto a quanto io non sapete perché so veramente poco del mondo di rock e del mondo di fumetti marvel iscrivetevi al canale ci vediamo molto presto con nuovi video e altre novità della ferie femminizia ciao a tutti